Sarà un ponte pasquale caratterizzato da traffico sostenuto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Occhi puntati però ai rientri dalle ferie quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia i mezzi pesanti provenienti dal centro-est Europa. Stando alle previsioni di autostrada e alto adriatico saranno martedì 2 aprile e mercoledì 3 le giornate più critiche per chi si sposta con traffico da bollino rosso. L'aumento dei flussi già dalla giornata di domani a partire dalla mattina sia in direzione Trieste che verso Venezia. Soprattutto a causa dei rientri dei lavoratori stranieri verso il centro-Europa e per il piccolo esodo dei turisti verso le grandi città del nord Italia. Traffico che rimarrà sostenuto anche venerdì 29 e sabato 30 specialmente in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà una drastica riduzione dei transiti in A4 e i flussi riprenderanno a partire dal pomeriggio di lunedì 1 aprile. Ma come detto la giornata critica da bollino rosso sarà martedì 2. In particolare nel pomeriggio è previsto l'intensificarsi del traffico a causa dei tanti camion che riprenderanno a circolare e del rientro dei turisti per la ripresa delle scuole. Saranno possibili lunghe code al casello dell'Isert in entrata a Trieste e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia all'altezza di Portogruaro. Code e rallentamenti lungo il cantiere potrebbero registrarsi anche nella mattinata di mercoledì per l'arrivo dei altri tir dal centro-Europa in direzione Venezia.